Con un grande campione delle due ruote qui a Monza Rally Show Fabrizio Pirovano Benvenuto, innanzitutto qual è la tua opinione su questa manifestazione? Sicuramente è una bella manifestazione perché c'è l'occasione di attirare tutti i piloti del motociclismo c'è Lorenzo, c'è il Valle, ci sono tanti altri piloti e è bello infatti io abito qua vicino e colgo l'occasione per venire a vedere Senti, proprio da motociclista come pensi che si adattino i tuoi colleghi alla guida su quattro ruote in questa gara un po' particolare? Penso che per un motociclista basta fare un po' di prove con la macchina e penso che la portate di tutti il Valle ha un po' più esperienza degli altri perché è un po' che va con le macchine da rally sicuramente è un bello spettacolo e Valle attira tanta gente a Monza